Ciao a tutti, in questo video che è un po' diverso dagli altri che ho pubblicato precedentemente vi voglio raccontare di Hitler non come politico, ossia come Führer del Terzo Reich, ma come uomo. Nacque in Austria a Branau il 20 aprile del 1889. Suo padre era un uomo molto autoritario che spesso lo picchiava violentemente e un giorno, stanco di quei soprusi e di quelle eccessive punizioni, scappò di casa e quando il padre lo trovò lo percosse talmente con violenza da ridurlo in coma per diversi giorni, tra la vita e la morte. Il problema di Adolf Hitler restò per tutta la vita il padre, non solo per la violenza che perpetrava nei suoi confronti, ma per le sue origini incerte. Sapeva infatti che questo suo genitore fosse nato da una relazione occasionale tra una domestica e il suo padrone, probabilmente era un ebreo e Hitler per tutta la vita fu ossessionato dall'idea di essere il nipote di un ebreo e che quindi lui non apparteneva alla razza ariana. Si trasferì a Vienna perché il suo sogno era l'Accademia di Belle Arti. Lì viveva con i risparmi di sua madre che lo aiutava economicamente, ma quando lei all'improvviso morì per un cancro al seno, lui rimase traumatizzato e provò a sopravvivere vendendo per strada i suoi quadri, che rappresentavano abitualmente sempre paesaggi, senza presenza umana. E proprio questa sua freddezza artistica fece sì che la sua domanda di ammissione all'Accademia fu respinta per due anni di seguito e Hitler giustificò questa espulsione pensando che la colpa fosse di alcuni esaminatori ebrei. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, Hitler si arruolò e riuscì a trovare la sua vera dimensione. Era legittimato a uccidere e poteva sfogare così la sua rabbia, quella rabbia che aveva accumulato da quando era un ragazzino in balia di quel padre feroce. Fu decorato con la croce di ferro di prima classe, cosa rarissima per un semplice caporale. Abitualmente è sempre bene in evidenza su tutte le sue divise, per cui basta vedere qualunque fotografia di Hitler per notare questa croce di ferro in petto. Partecipò a ben 50 battaglie e ne uscì vivo. Mentre quasi tutti i suoi compagni del reggimento furono spazzati via e uccisi, lui ne uscì indenne. E questa cosa rafforzò, non solo in questa occasione ma anche dopo i vari attentati eccetera che ha subito nella sua vita, la convinzione di essere stato scelto dal destino per un ruolo straordinario nella storia. Poi quando la Germania perse nella prima guerra mondiale, chiaramente lui era furioso perché convinto che la colpa fosse dei traditori della patria, cioè ebrei comunisti. Ho pubblicato vari video a proposito di Hitler come politico per quanto riguarda il nazismo eccetera, per cui qua invece ci occuperemo solamente di lui visto come uomo, non come Führer. Girano molte leggende riguardo Hitler. C'è chi dice che avesse subito una menomazione ai genitali perché aveva subito l'attacco di un montone, due bugie. Chi dice che fosse impotente, chi dice che fosse figlio di ebrei e c'è anche chi racconta che abbia avuto un figlio illegittimo, un tale Jamarillo Re, da una contadina quando lui era al fronte durante la prima guerra mondiale. E per tanti anni Jamarillo Re ha cercato in ogni modo di far rivalere il proprio legame di parentela con il capo nazista. Manco come se fosse un vanto poi essere figlio di Hitler. Voleva assolutamente che il mondo riconoscesse la sua vera identità, ma nonostante l'evidente somiglianza, e ve ne accorgete dalle fotografie, non è mai riuscito a dimostrare che Adolf Hitler fosse veramente il padre, ed è morto senza che il mondo desse credito alla sua versione. Si è raccontato poi che Hitler non fosse morto, ma che fosse fuggito all'estero in Argentina, ma in effetti sono solo menzogne. Il dentista di Hitler, che conosceva benissimo le sue arcate dentarie e le protesi perché egli stesso gliele aveva piantate, riconobbe invece la mascella del teschio trovato, salvato dall'incendio del cadavere, che dividenziava tra l'altro anche il foro del proiettile sulla tempia sinistra e per cui sostenne che quella fosse veramente la dentatura di Hitler, per cui quello fosse il suo cadavere al 100%. Molte sono le leggende, le frottole inventate, certo invece è che per colpa di Hitler più donne abbiano tentato il suicidio. Infatti il suo rapporto col genere femminile era molto tormentato, anche perché sosteneva che fosse sposato con la Germania. Sappiamo di certo che venne nominato tutore di sua nipote, la figlia della sorella, Angelika Raubal, chiamata da tutti Geli. Lei aveva soltanto 15 anni mentre lui 34. Hitler la conduceva, con sé dappertutto, era presente ad ogni congresso del partito nazista, a tutte le scene, alle conferenze, alle parate di Norimberga, al teatro dell'opera. Geli aveva perso il padre molto presto e vedeva per cui in questo zio Adolf una figura paterna. Lei era dolce, indipendente, molto frizzante, esteticamente non era proprio appariscente o meglio non rispecchiava la bellezza ariana, non aveva i capelli biondi, non aveva gli occhi azzurri. Però Hitler ne era molto affascinato, perché la vedeva come una ragazzina molto esuberante. L'esatta natura del loro rapporto è rimasta un mistero, ma le voci che definivano questo legame troppo intimo cominciarono a girare negli ambienti del Reich, dove tutti si accorsero che Hitler era ossessionato dalla nipote. Provava una gelosia acuta nei suoi riguardi, tanto che licenziò su due piedi il suo autista non appena seppe che le aveva rivolto delle attenzioni, tra l'altro ricambiate da Geli, e che si era proposto a lei come fidanzato. Hitler iniziò a considerare la nipote come sua proprietà e arrivò addirittura al punto di scegliere personalmente i vestiti che lei doveva indossare e anche le persone con le quali potesse conversare. Molto probabilmente tra i due non c'era un semplice e naturale rapporto tra zio e nipote, ma qualcosa di molto più intimo e di più proibito. Tant'è vero che più volte Geli si confidò con la guardia del corpo che le era stata assegnata, raccontando di incontri intimi con lo zio, dei suoi gusti sessuali che lei definiva nauseanti ed indecenti. Hitler era ossessionato dal sadomasochismo, dalla pornografia, non si separava mai dal suo prezioso frustino che portava sempre con sé. Finché il 18 settembre del 1931 Geli venne trovata morta. Si suicidò probabilmente perché non resisteva proprio più a quella vita d'inferno dove era sempre super controllata. Il colpo era partito dalla pistola di Hitler che era conservata in un cassetto. Geli non lasciò un messaggio o una lettera di addio e qualcuno ipotizzò che non si trattasse di suicidio, ma che fosse stata assassinata e che probabilmente il mandante fosse stato proprio lo zio Adolf, che era sconvolto dal fatto che lei non faceva altro che ripetere che sarebbe voluto andare via da quella casa. Sul suo viso apparivano stranamente contusioni e il naso, sul viso ovviamente del cadavere, era inispiegabilmente lacerato, rotto. Fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento a Prince Regensplatz 16, che oggi è diventato sede della polizia di Monaco di Baviera per evitare che si trasformi in luogo di culto per i nazi skin. Personalmente ho provato a scattare un paio di fotografie, mi hanno guardato proprio storto e quando sono andata alla casa di Evan Brown, alla villetta che sta nemmeno a 500 metri da quel palazzo, addirittura mi hanno fermata e mi hanno chiesto perché io stessi scattando una foto. Questo per farvi capire. Due anni prima che Geli si suicidasse, Hitler aveva conosciuto nello studio di un fotografo una donna e era rimasto molto colpito da lei, che aveva un fisico atletico, biondissima, molto giovane, una bella donna ben diversa da Geli. Si chiamava Eva Brown, aveva 20 anni solamente, mentre lui ne aveva ben 43, cioè più del doppio dell'età di lei. Lei non restò indifferente davanti alla corte di quell'uomo che politicamente era così potente e ne subì completamente il fascino. Dobbiamo anche aggiungere che nel giro di pochi anni, quando lui divenne ancora più famoso e ottenne ancora più potere, furono tantissime, non si contavano, le donne che avrebbero fatto qualunque cosa per stare con lui o addirittura avere un figlio da lui. Iniziò tra Eva Brown e il Führer una relazione completamente segreta. Per il Reich lei non esisteva, ma lui, pur di averla sempre a disposizione, tra parentesi, sessualmente, chiudo parentesi, la fece trasferire al Berghof sulle Alpi Bavaresi, nella sua residenza estiva che sappiamo, conosciamo tutti come il Nido dell'Aquila. La convivenza era comunque molto difficile, in quanto lei non veniva presentata come la compagna del Führer, ma veniva spacciata per la sua segretaria e lei di questo ne soffriva tantissimo. Restava comunque segretamente la sua compagna, infatti Hitler trascorreva nella camera da notte di lei quasi tutte le notti. Per disobbligarsi delle sue mancanze Hitler le regalava vestiti di alta moda francese, abiti in seta, scarpe italiane di ferragano, gioielli, pellicce, persino un cagnolino, tutto ciò che lei potesse desiderare. Però lei era sempre depressa perché il suo uomo la trascurava per la politica e non le dava quelle attenzioni di cui lei aveva un bisogno spasmodico. Per scuoterlo, per attirare la sua attenzione, tentò il suicidio due volte e lui, soprattutto per non destare scandalo all'interno del Reich, corse al suo capezzale per confortarla, lasciando tutti i suoi impegni di lavoro politici. A proposito del Berghof, la servitù racconta di una stanza chiusa a chiave in cui non era concesso accedere a nessuno ed era una specie di tempio dedicato a Geli. Lì era pure custodito il suo ritratto e Hitler spesso si chiudeva in quella camera per ricordare questa nipote. Probabilmente è stata l'unica donna che lui veramente avesse amato. L'esito della guerra ormai mostrava un bilancio negativo per i nazisti. La salute fisica e psicologica di Hitler iniziava a dare segni di grande cedimento, tanto che si mise totalmente nelle mani di un medico molto conosciuto in quel periodo, Theodor Morel, il quale gli somministrò addirittura 70 tipi di medicine, alcune delle quali possono essere definite droghe vere e proprie. Per esempio il Pervitin, che era somministrato anche alla maggioranza dei soldati tedeschi, era a base di metanfetamine. Hitler ne era completamente dipendente, così come era soggiogato da questo medico nel quale credeva ciecamente, da quando lo aveva guarito da imbarazzanti problemi allo stomaco dovuti a una grave flatulenza. Possiamo dunque affermare che Hitler fosse un drogato completamente dipendente dalle medicine, dalle metanfetamine, dalla morfina. E quando la situazione divenne ancora più tragica, ed era ormai evidente che la Germania avesse perso la seconda guerra mondiale, Hitler abbandonò il Berghof e si chiuse in un bunker a Berlino. Un video dimostra che fosse affetto dal Parkinson, in quanto la sua mano sinistra, tremava inesorabilmente. Sembrava invecchiato e depresso, e capitava spesso che insultasse i suoi generali, che urlasse nel bunker, ascoltavano le cattive notizie provenienti dal fronte. Era convinto di avere ancora buone possibilità di vincere la guerra, si illudeva, nonostante l'evidenza di un'imminente capitolazione. Tra l'altro venne pure tradito dai suoi gerarchi, persino da Himmler che era il suo braccio destro. Gli rimase accanto fedelmente Eva Braun, che dopo 15 anni di relazione decise di restare al suo fianco e si trasferì con lui nel bunker, di sua volontà, decisa a togliersi la vita insieme al suo uomo. Hitler la sposò 36 ore prima di suicidarsi, per ricompensarla di quel grande amore che lei aveva sempre dimostrato. Lei ne fu molto felice, tanto è vero che sul documento matrimoniale corresse la firma, infatti stava scrivendo Eva Braun, cancellò Braun e scrisse Eva Hitler. Il Führer aveva compiuto 56 anni soltanto da 10 giorni, per cui era stato da pochi giorni prima il suo compleanno. Dopo aver dettato il suo ultimo testamento e le sue volontà, alle 3 del pomeriggio, prima di entrare nella stanza del bunker dove si sarebbe tolto la vita insieme a lei, per la prima volta davanti a tutti baciò Eva sulla bocca e ordinò che il suo corpo e quello di sua moglie fossero bruciati per evitare lo scempio dei cadaveri da parte dei sovietici che oramai avevano conquistato Berlino. Oggi dove sorgeva quel bunker è stato allestito un parcheggio e di ciò che fu non c'è più traccia, soltanto un grosso cartello quasi anonimo coperto dal vetro che indica la posizione in cui si trovava una volta il bunker. A Berlino non troveremo mai una divisa di Hitler, un cappello, un oggetto del Führer, i tedeschi tendono a cancellare ogni cosa, ogni traccia. Per loro resta un'onta il nazismo, una macchia indelebile da dimenticare, da seppellire, così come per esempio Auschwitz, di cui in Germania è meglio non parlare mai. Ho imparato a mie spese perché sono stata tantissime volte in Germania che in terra tedesca nominare i Lager, Auschwitz o Hitler è segno di cattiva educazione. Vi fanno la faccia storta. Il 30 aprile del 1945 Hitler avvelenò il suo amatissimo inseparabile Cane Blondi, poi si chiuse nella stanza del bunker, prese una compressa di cianuro e per essere certo di morire si sparò contemporaneamente un colpo alla testa. Eva seduta accanto a lui, elegante e perfettamente curata, si uccise con il cianuro. Su di lei sono più vute critiche in quanto sapeva ciò che stava succedendo. Era a conoscenza dei campi di concentramento, ma non ha mai mosso un dito per risvegliare la coscienza di Hitler. Forse solo lei avrebbe potuto fare qualcosa, ma non l'ha fatto, in quanto anche lei era razzista e antisemita. Alla notizia equa, a concludo, della morte di Hitler si tolse la vita anche Martha Goebbels, moglie del ministro della propaganda, famosissimo. Può essere definita la first lady del regime nazista. Adorava Hitler in maniera viscerale, tanto che si suicidò sostenendo che per lei fosse inconcepibile vivere una vita senza il nazismo. E prima di uccidersi avvelenò i suoi sei bambini che avevano tutto il nome iniziante con la lettera H come Hitler. E loro lo chiamavano zio Adolf. Con la morte di Hitler finalmente il mondo potette inalare un attimo di respiro e intraprendere il cammino verso la pace. Tutto qua, grazie se mi avete ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!